Quattro 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 Sì, sì, sì! Cosa vuoi? Cioè, immediatamente dopo l'entra sta qui Ne vanno indietro un po' Ah si? Si Vi aspetta un po', capite di me? Qui ti recuperà perché? Ma se di me era la nesta Non è giusta la regola, mi sono sponzato Il mondo è una malattia Questo è bravino Conosco i nomi dei giocatori dei giovanili Una malattia Se la sentivo Il mio è uscito, si Solo dai, Fante non è uscito No, è l'altro Il mondo è intendato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti